Ricognitore nemico, laggiù! Grazie! Pego una litra all'autrice! Sforzia! Ecco dei proiettili! Stieni! Munizioni! Grazie! We are losing objective apples. Stiamo! Ecco le munizioni! Grazie mille! Ecco qui! Munizioni! Occhio! Granata lanciata! Ecco dei proiettili! We have taken objective butter. We have taken the sector Clear the sector from enemy presence We have secured the sector Clear the sector Visto! Uno dei loro soldati! Granata lanciata, senti! Pronte delle munizioni! Pronte delle munizioni! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Stiamo attenti! C'è un soldato! Mi hanno ferito, dottore! Grazie a partita! Tenete giù la testa! Pulizioni, avanti! Ecco dei proiettili! Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. Abbiamo preso l'obiettivo, quindi ne dico perso. Abbiamo preso l'obiettivo. Abbiamo preso l'obiettivo. Abbiamo preso l'obiettivo. Abbiamo preso l'obiettivo. N side, go! Quanto te la dimostri fatto! Mira, via, via! Ecco qui un po' di munizioni! Dobbiamo conquistare l'obiettivo! Un ricognitore! Visto! Ecco le munizioni! Munizioni, avanti! Un ricognitore! 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 Un ricognitore!